Buonasera, parto da Davide. Un anno fa Calabria era un giovane giocatore chiamato a sostituire Andrea Conti. Un anno dopo Calabria è un giocatore più maturo. Ti chiedo quanto è cambiato, cosa è cambiato e quanto c'è di gattuso in questa tua crescita? Buonasera a tutti. Io sono al Milan da quattro anni in verità in prima squadra, quindi qualche tempo che ormai sono qua. Sostituire non penso nessuno. Sinceramente sono rimasto a disposizione da tutti i mister che sono passati negli ultimi quattro anni. Con il mister Gattuso ho trovato la continuità che tutti i giovani cercano e sono molto contento di questo. Spero di poter andare avanti così. Sicuramente l'età può ingannare ma non penso sia un fattore importante. Prima di un anno, il giocatore di Milano Calabria è stato un nuovo giocatore che è venuto per la conti. Dopo un anno, il vediamo più ormai che è stato un giocatore di questa squadra. C'è un giocatore? C'è un giocatore? C'è un giocatore? C'è un giocatore che è stato un giocatore di questa squadra. che è venuto. Con il signor Gattuso ho deciso di avere un giocatore di questa squadra. Ci vuole intelligenza perché non bisogna pensare a quello che c'è intorno perché è tutta una distrazione. Bisogna pensare solo al campo. Parlando anche di ieri, sono partite comunque sempre difficili perché dentro fuori qui. scusate. Quindi, alla fine, sono partite che deve preparare già da giorni prima. Se arrivi preparato, noi lo siamo, può affrontare nel modo giusto. Ovvio che se ti lascia distrarre da tutto quello che c'è intorno, allora diventa molto più difficile. Il rischio è un rischio, se non è un rischio, è un rischio. che è molto difficile, molto difficile, avevamo due giorni per la prima volta, quindi questo dovremmo fare, dovremmo mettere il mio cervello in una metà e ciò di altro. Buonasera Davide, buonasera Mister, questa domanda per entrambi, come state vedendo con Saliguaín in questi giorni, ha avuto periodi migliori, però resta sempre il grande attacante che è, volevo chiedervi a entrambi, come lo vedete in questi giorni. Ma ti rispondi Davide perché tutti e due, prendete una sola... Va bene, vai Davide. Normalissimo, all'interno dello spogliatoio siamo un gruppo unito, ci vediamo anche all'esterno delle mura di Milanello e lo vedo bene, perché c'è un talento infinito, è uno dei più forti attaccanti al mondo e ci sta magari un periodo che sei più nervoso perché non riesce magari a esprimere certe giocate che normalmente lui può fare, però succede a tutti, è capitato ai più grandi di sempre, ma quello che può farci svoltare dal punto di vista anche, probabilmente, sopra tutto in Europa. Grazie. 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 Grazie.